Ben ritrovati dal Tg Amici Animali, iniziamo questa edizione con qualche notizia di cronaca. Nel pomeriggio di sabato 7 di febbraio, gli agenti faunisti covenatori del servizio di tutela della fauna e della flora della città metropolitana di Torino hanno recuperato una giovane femmina di lupo che era in difficoltà a seguito di un probabile impatto con un autoveicolo. Il recupero è avvenuto nella scarpata della strada regionale 23 del Sestri, in prossimità del bivio per la borgata Lo del Comune di Usso. L'animale si presentava in stato di denutrizione, aveva anche una lacerazione alla zampa anteriore destra. L'intervento è avvenuto a seguito della segnalazione di un automobilista di passaggio che ha chiamato il numero di emergenza 118. A recupero avvenuto poi è stata segnalata la presenza di un secondo lupo che si aggirava nell'abitato di Pragelato. Giunti sul posto, gli agenti faunistico-venatori hanno constatato la presenza dell'animale nella pertinenza recintata di un condominio in via Colle di Costa Piana. Apparentemente l'animale non presentava alcuna ferita, si era posizionato tranquillamente davanti alla porta d'ingresso dello stabile. Il servizio di tutte le faune e flora della città metropolitana ha provveduto così ad allontanare il lupo fuori dal centro abitato. Intanto per stabilire il trattamento da riservare alla femmina di lupo recuperata ad Usso è stato contattato il professor Giuseppe Quaranta del Cancio, il centro animali non convenzionali di Grugliasco che come sapete è convenzionato con la città metropolitana di Torino. È stato quindi concordato il trasporto della lupa ferita presso l'ospedale della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino dove si trova attualmente ricoverata in condizioni per fortuna non gravi. La mattina seguente poi è giunta una nuova segnalazione della presenza di un lupo, questa volta in frazione Rivez di Pragelato lungo la strada regionale 23. L'animale si era addirittura rifugiato su un pianerottolo esterno della scalinata di un'abitazione. Anche in questo caso, dato che l'animale comunque non presentava ferite, è stato indirizzato nei boschi adiacenti e poi di lui si sono perse le tracce. Nel frattempo, Ussa, la lupa ricoverata presso il cance, è stata chiamata così, migliora in fretta e per lei decisamente la libertà e il ritorno al suo mondo sono vicinissimi. Purtroppo però non tutte le notizie sono a lieto fine come questa. Nei giorni scorsi, infatti, in una frazione di Castellamonte, i ladri si sono accaniti contro un povero vitellino, decapitandolo per rubarlo senza essere scoperti. Al mattino l'allevatore, intento a fare uscire le mucche al pascolo, nel prato o lì vicino, si è accorto della mancanza del vitello e dopo averlo cercato nei dintorni ha fatto la macabra scoperta. E tra l'altro è solo l'ultimo, non l'unico, degli episodi di furto e di macellazione abusiva che si sono verificati in zona. E ora andiamo a Torino, dove gli attivisti sono scesi in piazza per protestare contro la manifestazione Allevatori per un giorno, l'evento che è stato organizzato da Coldiretti nelle maggiori piazze italiane. Tutti quanti ci hanno detto che è tutto in regola per gli animali, però il problema è che comunque sappiamo che gli animali vengono sfruttati. Queste mucche, una volta che non potranno più produrre latte, verranno macellate. I vitellini che fanno dopo due settimane glieli strappano perché altrimenti si bevono tutto il latte e purtroppo è questo che non va bene. E non dovrebbe andare bene a nessuno perché sono vite, tanto quanto noi. È vero, chi oggi era in piazza difendeva il proprio diritto al lavoro. Certo, assolutamente. Questo non lo mette in dubbio nessuno, però queste persone potrebbero anche mettersi a coltivare qualcosa. Si può fare una riconversione dell'attività, cioè non c'è bisogno di sfruttare gli animali per vivere. Noi non li sfruttiamo e viviamo lo stesso. Ci sono migliaia di persone che non sfruttano gli animali e vivono ugualmente. Non c'è bisogno di fare questa cosa qua. Sofferenza, sfruttamento, violenza. Peggio di così non si può. Tra l'altro le alternative al latte vaccino e i suoi derivati non mancano e anzi, certo fanno parte di un settore in espansione. Ci sono formaggi vegani, ci sono il latte, il latte di soia, il latte di mandorle, ci sono un sacco di latte vegetale, buonissimi, fanno bene. Sappiamo tutti quanti, forse tanti non vogliono sapere che comunque il latte vaccino, comunque il latte degli altri animali, non va bene per l'uomo. Non lo può digerire, per essere digerito il latte è comunque animale, cioè lo stomaco prende i sali minerali e il caccio dalle ossa. È stato detto anche da tantissimi studiosi scienziati che comunque il latte fa male, provoca anche le orti porosi. La gente però non lo vuole capire, purtroppo. E noi ci proviamo, sempre. Abbiamo parlato alcune settimane fa della borsa di studio messa a disposizione dell'associazione iCare e destinata allo sviluppo di tecnologie innovative nel mondo della ricerca. Anche per Gianmarco Prampolini, presidente della Leal, i 35 anni dedicati dalla sua associazione alla ricerca senza animali e ai risultati che sono stati raggiunti dimostrano che la ricerca scientifica decisamente oggi ha gli strumenti per superare i vecchi e ormai inefficaci modelli di sperimentazione. La strada è lunga, la vittoria di Green Hill è una pietra miliare perché dimostra chiaramente che non solo vengono fatte delle atrocità inutili sugli animali nella ricerca, ma anche nella filiera che porta la vivisezione non c'è assolutamente rispetto per gli animali. Noi siamo sempre più convinti che la ricerca deve essere sostitutiva al modello animale, neanche più alternativa e dobbiamo essere noi che oltre a affrontare l'aspetto etico scendiamo in campo scientifico per dimostrare, cosa che peraltro la Leal fa da 35 anni, che si possono finanziare delle borse di studio. L'ultima nostra borsa di studio, che qua vede appunto il nostro volantino, verte sul fatto che dai grassi ricavati dalla liposuzione si può lavorare su delle cellule staminali che, lavorate in un certo modo, si può effettuare delle prove tossicologiche per proteggere le donne e il feto nello stato di gravidanza. Quindi volere e potere, è inutile che i vivisettori si arrochino sempre su salviamo i bambini e cose di questo tipo, è giunto il momento di cambiare e soprattutto queste grandi vittorie che dimostrano sempre di più che con denaro pubblico si fanno dei maltrattamenti sugli animali, vedi Green Hill e a volte si illudono delle persone. Quindi bisogna cercare a tutto campo e noi siamo per una ricerca che protegge tutte le forme di vita e quindi vogliamo che ci sia una ricerca corretta in merito. Le difficoltà da parte dei ricercatori tradizionali ad aderire alla sperimentazione senza l'uso di animali sono più di tipo etico, di tipo economico, di tipo legislativo? Che cos'è che non fa andare i ricercatori verso questa nuova ricerca? Io penso che utilizzare il modello animale sia una forma di garanzia, cioè nel senso una volta che il ricercatore ha testato sull'animale è a posto con la legge, poi se io quella farmaco o quel prodotto lo metto sul mercato e muoiono un sacco di persone e noi sappiamo benissimo che vengono ritirate, ogni tanto sentiamo di questi scandali dai vaccini che qualcosa non ha funzionato, alla fine la loro scusa è quella che non hanno testato abbastanza sugli animali. Quindi bisogna assolutamente distruggere, smontare questo alibi perché come ripeto spesso le ricerche su parchi, su Alzheimer, nonostante che sono dispesi un sacco di soldi non hanno portato assolutamente a niente. Ripeto, non si deve più parlare neanche di modello alternativo ma di modello sostitutivo al modello animale. Roi è un incrocio persiano, è un maschio, è nato nel 2013 ed è stato abbandonato. Per questo ha molta paura ma non reagisce mai in modo aggressivo, è molto educato e proprio per questo si pensa che abbia vissuto in una casa e poi sia stato abbandonato. È un po' diffidente con gli altri gatti ed è positivo alla FIV. Per informazioni su di lui si può chiamare il numero 339 50 38 0 73 dalle 9 alle 12. Roi si trova in Piemonte. Giotto è un cagnolino di 12 chili, età 9 anni ma ottimamente portati, è stato salvato da una brutta situazione, ora cerca una casa dove poter trascorrere il resto della vita. Va d'accordo con tutti, ama i bambini, con i cani maschi va un po' a simpatia. Per informazioni su di lui si può chiamare il numero 333 33 79 258. Due appelli che arrivano da Biella, si tratta di due gatti, Romeo, maschio castrato di 5 anni, nero e Cleo, femmina sterilizzata, invece di 15 anni, una tigrata grigia. Sono abituati a vivere in appartamento, sono ovviamente educati alla lettiera, vanno d'accordo con altri gatti e anche con cani, sono davvero dolci con tutti. Si cercano urgentemente uno stallo, tra l'altro la proprietaria è anche disponibile a pagare le spese per il loro mantenimento, si cerca appunto uno stallo oppure, meglio ancora, un'adozione definitiva. Per informazioni su di loro si può chiamare il numero 345 85 03 002, lo ricordiamo, si trovano a Biella. Arriva dal Piemonte anche questo appello, Filippo è un bellissimo micio di circa 8 mesi, svermato, testato, FIV, felve negativo, castrato già con la prima dose di vaccino. Si trova attualmente in gabbia presso uno studio veterinario, è buono e socievole e per lui ovviamente si cerca un'ottima adozione. Per informazioni si può chiamare il 339 5258 763. Due appelli che arrivano dall'associazione Cani Sciolti Rico, è un incrocio bulldog e beagle taglia media di circa 3-4 anni, è trovato vagante in un quartiere semiperiferico di Avola dove è stato soccorso. Adesso si trova in stallo da una volontaria dei Cani Sciolti, è molto buono, docile, sicuramente è stato in famiglia in precedenza. È vaccinato, svermato, microcippato, cerca una famiglia vera per non dover ovviamente tornare in strada come cane di quartiere. Si trova in Sicilia, però si affida in Piemonte, Lombardia e regioni limitrofe dove tra l'altro arriverà a spese dell'associazione. Poi c'è Teresa che probabilmente è nata a gennaio del 2009, è entrata al rifugio il 20 marzo 2012, è una taglia medio piccola, pesa sui 14 kg. Anche per lei il sospetto che sia stata abbandonata perché ha sempre gli occhi bassi, guarda sempre il cancello come se stesse aspettando o qualcuno. Teresa è già alla metà dei suoi anni e quindi si cerca urgentemente un'adozione per non lasciarla ancora in canile. È molto mansueta e dolce, va d'accordo anche con gli altri cani, anche con le femmine. È microcippata, è vaccinata e si affida anche lei in Piemonte, Lombardia e zone limitrofe. Per Rico e per Teresa i contatti sono il 340 83 68 295 oppure 347 80 59 303. Si può anche lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 011 988 20 75. Questa socievole giocherellona femmina di circa 11 mesi è in cerca di una famiglia, con un giardino, magari con un compagno cane con cui poter giocare. È vivace, è affettuosa, è in buona salute, è sterilizzata e cerca ovviamente adozione. Per informazioni 348 87 36 156. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro Tg Amici Animali. Vi ricordo che potete scriverci, quindi inviarci i vostri appelli, le vostre segnalazioni alla mail redazione chiocciola tgamicianimali.it. Alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Grazie a tutti.